Addirittura la farmacia dove ha fatto il tampone. Anche lei qua a Pesaro con il vessillo dell'Italia in mano, perché? Perché mi considero un libero cittadino e vengo a professare la mia libertà. Io non sono un Novax, ormai è diventato come la croce degli ebrei qui, sei in periferia, considerato la periferia della società. Però io non voglio farmi mettere nelle vene una cosa di cui non si sa nulla. E poi andare a colpire le persone sul lavoro, ma questo è un atto delinquenziale. Dove sono le sigle sindacali? Come fanno ad andare contro il lavoratore? Come fa una persona che guadagna 1.000 euro, 1.100 euro al mese, tirare avanti una famiglia, magari pagare un mutuo, mandare i figli a scuola e togliere 200 euro per farsi fare i tamponi? È assurdo. Lei questa mattina doveva andare al lavoro? Certo, per manifestare per questa cosa qua, non del Novax, non sono contro i vaccini, ognuno può fare quel che vuole. Sono contrario al divieto, ci impediscono di lavorare. E quindi che cosa ha fatto? Comunicato all'azienda due giorni prima che non avevo il Green Pass, si sospendono loro, sono loro che ci sospendono, fino a nuovo ordine. Dopo vediamo come funziona. Quindi niente stipendio e niente tamponi? No, perché se si fa il tampone dai ragione a loro, poi sinceramente 15 euro ogni due giorni. Il modo in cui è stato imposto, sotto forma di dittatura, non si può neanche più andare a lavorare, non mi sembra una cosa giusta, a prescindere dal vaccino no. Comunque io ho il diritto di lavorare come gli altri, pago le tasse come gli altri e mi sembra giusto togliere il Green Pass. Sono contrario perché intanto il Green Pass secondo me non c'entra niente col vaccino, primo. Poi la domanda fondamentale è perché proprio solo in Italia, in nessuna parte del mondo, un Green Pass così estremo. Adesso io posso capire per luoghi di assembramento, ma adesso noi abbiamo sempre lavorato in piena pandemia, sempre, senza neanche un giorno d'assenza. Adesso che ormai è dalla pandemia, lo dicono loro, che siamo usciti, quindi ci costringono a vaccinarci in modo un po' spintaneo, obbligatorio, perché non è proprio obbligatorio, ce lo rendono obbligatorio con sistemi un po' fittizi. Posso chiedere che lavoro fa? Io faccio l'autista. Ed ora come fa? Non so, eseguirà i test oppure non andrà al lavoro? No, non sono andato al lavoro e non andrò a lavorare. Il certificato verde secondo lei è una forma di ricatto, che cosa ne pensa? Beh, è normale che è una forma di ricatto perché viola tutte le libertà dell'essere umano e della Costituzione italiana. Qui non si parla più di vaccino o non vaccino, qui stanno togliendo la libertà le persone di vivere, di lavorare e di avere una vita normale come in tutte le altre nazioni del mondo perché solo da noi c'è il Green Pass. In Spagna è stato dichiarato per tre volte dalla Corte Costituzionale incostituzionale, quindi solo da noi una cosa così succede. E ora che il popolo italiano si svegli, è fortuna che abbiamo i portuali di Trieste e di Genova che stanno veramente dando una mano forte al popolo italiano. Lei sorregge uno striscione, perché è qua? Perché è una cosa ingiusta e non si può accettare. Io credo che sta demolendo le aziende italiane e per farle comprare ai cinesi probabilmente è veramente una vergogna e è impossibile che il governo non capisce che cosa sta facendo. Lede la dignità secondo lei? Lede non solo la dignità ma anche la vita. Ci toglie il cibo per mangiare, se non lavori non mangi e quindi alla fine non lo so. Siamo in un momento peggiore della Repubblica Italiana perché questa mancanza di libertà in tutti i sensi è una vera discriminazione verso chi la pensa in modo diverso dal governo attuale. Posso chiederle di dov'è? Sono di Pesaro, certo. E lei oggi doveva recarsi al lavoro oppure no? Cioè, sarei dovuto recare al lavoro ma sono in disoccupazione adesso. Giacomo, lei è uno studente universitario e ha intrapreso una battaglia anche nella sua facoltà. Quale? Io studio al conservatorio qua a Rossini di Pesaro e sono uno studente del biennio di musica da camera. Io parlo perché da noi hanno esteso il campione al 100% quindi all'entrata ti fanno il controllo e se non hai il green pass non puoi entrare. Io personalmente non voglio piegarmi a questo sopruso qua e non ho intenzione di fare né tamponi né vaccini e per cui sto intraprendendo questa battaglia anche facendo valere i miei diritti spiegando che non si può fare una cosa del genere perché comunque si commette un reato di violenza privata. Il diritto allo studio non è un privilegio, è un diritto e quindi non può essere negato per nessuna ragione. Quindi niente esami? Non posso dargli esami, no.